La CIA è una società privata che fa pagare i diritti d'autore a tutte quelle associazioni che fanno degli spettacoli, quindi si va dai grandi eventi ma anche agli eventi minori, quelli organizzati dalle associazioni, del gruppo di volontariato, dagli alpini, dalle filodrammatiche. Il problema non è che queste associazioni non vogliono pagare, è un atteggiamento vessatorio, dicono, della CIA nei loro confronti. Bastrebbe studiare una forma di forfettura privatizzazione, cioè decidere quanto si deve pagare senza però complicare la vita a questi volontari, a queste persone che lavorano, con controlli e azioni di intimidazione, come dicono che ci sono molto spesso. Le associazioni dicono che non c'è provincia in Italia dove la situazione sia così pesante di vessazione, per l'appunto, nei confronti di chi fa attività ricreativa, attività di festa, con uno spirito non certamente finalizzato a imbrogliare la CIA, ma che desiderano poter lavorare anche senza continui controlli da parte della CIA. Ogni lavoro si può fare in diversi modi, si può fare un buon lavoro anche senza fare un cattivo lavoro.